eccoci di nuovo buongiorno a tutti incominciamo questo tavolo di discussione il cui tema è il progetto editoriale dall'accademia alla professione lo spirito del tavolo di discussione è sicuramente divulgativo e vi invito e risorto a partecipare a questo dibattito parteciperanno quest'oggi Marco Tortoioli Ricci e Daniele Pampanelli che entrambi sono due professionisti affermati che lavorano su scala locale regionale e nazionale e in alcuni casi anche internazionale diciamo e entrambi sono umbri e condividono un percorso di formazione che voglio al caso è molto simile. Allora la prima domanda parte da una riflessione a me cara che lessi in un libro che ha poco a che vedere con la progettazione grafica ma che in qualche modo la coglie perché il tema del libro è la qualità o la ricerca della qualità. Questa è citazione di presa da un libro di Robert Maynard Persig non so se l'ho pronunciato correttamente ma sorvolate e il titolo del libro è lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. La citazione dice così forse il direttore era un tecnico parola con la quale Fedro indicava un autore così immerso nella propria materia l'aveva perso la capacità di comunicare con chi ne fosse al di fuori. Allora se noi prendiamo questa citazione e la decontestualizziamo da quello che era il contesto del libro possiamo vedere che offre molti spunti di riflessione sul tema che trattiamo oggi e forse in senso più generale sulla figura stessa del progettista grafico perché coglie appieno la difficoltà che si incontrano al momento dall'uscita del mondo universitario e l'approdo nella professione. Ora se cerchiamo di traslare il concetto della citazione e lo riportiamo su quello che è la nostra professione ovvero la comunicazione visiva ci possiamo rendere conto di questo problema. Voi nel particolare vi siete scontrati con queste difficoltà ovvero avete avuto incontrato problemi di natura comunicativa legato ad un eccesso di tecnicismo accademico? allora intanto prendendo spunto proprio dalla citazione che tu Gianluca hai tratto io considero per un grafico quel libro un libro fondamentale perché non lo dice esplicitamente ma parla di grafica perché parla di due cose parla del fatto che la motocicletta è la metafora di come lavorare su un oggetto per cui si cerca la perfezione è quello che un progettista fa per tutta la vita tentare di aggiustare una cosa che non è mai perfetta questo non finisce mai cioè cominci e già a scuola io mi chiedevo quando arriverà quel momento in cui non devo più passare notti no a cercare la perfezione tentare di aggiustare le cose non sono mai arrivato a quel momento cioè ancora sono lì a tentare di sistemare le cose e l'altro è il viaggio perché questo oggetto viaggia e il viaggio è una metafora in realtà tu stai cercando di aggiustare una cosa che parte da un punto e attraverso quel tentativo continuo di renderla perfetta ti porta da tutt'altra parte ed è il tuo sistema di mediazione col mondo in realtà questa ricerca di perfezione non è altro che il modo in cui tu parli attraverso quell'oggetto e quindi l'essere un tecnico che è incapace di relazionarsi col mondo in realtà è nient'altro che accettare il fatto che il proprio linguaggio il proprio piano semantico con cui si mette in relazione col mondo passa attraverso quel canale devi accettare di starci dentro perché altrimenti si corre il rischio del come dire o dell'autoreferenzialità e quindi non essere completamente al servizio della propria professione e in qualche modo sacrificarsi ad essa oppure quello dell'indulgere alla popolarità verso il pubblico che è una forma di come dire di onanismo professionale avrebbe quasi da dire no e quindi io dico grazie a dio c'è questo limite anzi quello che tu dici ma forse questo autore che è vittima della propria messa in relazione con una tecnica che lo possiede che in qualche modo gli obbliga una totale immersione anche quasi una forma di incapacità di dialogo diretto col mondo e grazie a dio succede questa cosa perché perché ci si obbliga a un rapporto di mediazione in cui il linguaggio diventa centrale che è la ricerca di questa perfezione e quindi è successo ancora succede no quando ancora oggi tento e poi diventa sempre più difficile perché oggi è come viaggiare in un mondo in cui arrivi a una profondità sempre maggiore quindi percepisci sempre di più la complessità di quel mondo quando tenti di spiegarla la gente dall'altra parte ti guarda come se fossi un alieno e quindi ti devi affidare alla motocicletta ti devi affidare le cose che fai sì senza dubbio sono d'accordo insomma io credo sempre ho sempre creduto che l'eccesso di tecnicismo in realtà è un limite però è chiaro che questo equilibrio che dicevi tu Marco è fondamentale la ricerca di questo equilibrio perché poi probabilmente non ci si arriva mai insomma si sposta sempre un pochino eh la linea dell'orizzonte della propria professione noi abbiamo avuto diciamo prima insomma lo stesso più o meno lo stesso maestro lui e Marco che era Massimo Dolcini che diceva una cosa diciamo piuttosto volgare ma secondo me anche molto giusta cioè che fare grafica per i grafici è come mangiare merda e dirsi quanto è buona che è fondamentalmente una stella polare anche di quello che penso io ora è vero che non non si deve indulgere nel nella ruffianeria verso il pubblico perché per quello purtroppo insomma pieno è pieno il mondo della comunicazione non mi riferisco solo a comunicazione grafica ma alla comunicazione di ogni tipo all' intrattenimento eccetera tu sai il tuo pubblico sai quello che vuole gli dai esattamente quello che vuole nelle dosi sempre maggiori per per drogarlo e quindi questo è un male però è anche vero che tu non puoi prescindere dal dal porti l'ambizione di adesso dirò una cosa vecchia adesso età di educare anche la gente insomma al al bello a parlare con con un linguaggio diverso rispetto a quello basico con cui di solito viene trattato insomma quindi no la nostra secondo me la nostra difficoltà maggiore è quella a proposito del viaggio un'altra cosa che 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 spesso mi dico insomma che un buon grafico intendendo per grafico un comunicatore quello che fa la nostra professione deve avere due due buone paglie di scarpe perché insomma deve camminare cioè deve camminare non appunto non non essere autoreferenziale ma ricevere stimoli e parlare anche con detto questo è chiaro che la nostra ricerca di perfezione o di non so progetto sempre migliore come lo vogliamo definire è complicata insomma è una cosa che a giorni è una nostra professione appunto che si esercita lo dice la parola stessa il verbo stesso quindi è un esercizio quotidiano che fai pratica quotidianamente e che che devi assolutamente esercitare giorno per giorno e giorno per giorno cambiano anche le cose quanto quanto è cambiata il nostro mondo tecnico anche e tecnologico con l'introduzione lasciamo stare i computer che ormai sembra un errore la geologica fa ma noi in realtà siamo analogici noi siamo nati analogici in quel momento di passaggio via perché lì sia c'erano i computer però fondamentalmente siamo nati analogici lasciamo stare la nascita del computer ma i social network o la comunicazione digitale internet quanto ha cambiato rispetto al modo di porsi agli strumenti che sono non sono soltanto strumenti neutri ma anche modi di concepire il mondo pensiamo alla fish pensiamo altre cose quindi cioè voglio dire il rinnovamento è deve essere continuo insomma non è soltanto di carattere tecnico è di carattere strutturale voi avete citato un libro molto bello e marco ha detto giustamente parla di grafica io ve ne consiglio un altro che parla attrettanto di grafica pur non parlando di grafica che è come funziona la musica di david burn che è un un libro meraviglioso perché parla del progetto della funzione di perché alcuni suoni hanno quel suono specifico e perché non ne potrebbero avere un altro sono cose molto interessanti poi ecco secondo me un grafico parlo di grafico senza col senso più nobile della parola come ci hanno insegnato voglio dire deve essere questo insomma deve essere un grillo con antenne molto bene e quindi nella vostra esperienza avete notato che un'evoluzione della tecnologia di media e nei mezzi di diffusione della grafica aumentasse questo grado di tecnicismo accademico oppure no oppure è sempre stato così lo studente sempre stato immerso in un in un ambito finché era accademico ristretto oppure questa capacità si è un po persa i media in questo senso cosa fanno allontanano la comunicazione o avvicinano la comunicazione rispondo io per primo così facciamo un giro alternato ma secondo me in realtà l'approccio di uno studente motivato che ha fatto una serie di studi di questo di questo tipo molto specifici e ambizioso vive sempre in bilico tra l'essere iper tecnicistico e essere un buon comunicatore un buon mediatore quindi in realtà si poi cambiano i modi in cui questo si esprime però diciamo che più che altro se c'è stato un cambiamento dipende non tanto da secondo me non soltanto dalla l'evoluzione tecnologica ma dall'evoluzione della metodologia progettuale quindi dell'insegnamento anche i libri che sono sempre di più io mi ricordo quando studiavamo noi alla fine i volumi che trattassero l'argomento a 360 gradi ce n'erano diversi ma erano di difficile reperimento pubblicazioni comunque molto minori di volume nei volumi rispetto a quelli che si trovano adesso quindi secondo me c'è sempre una maggiore consapevolezza progettuale ci sono più strade progettuali non c'è un'unica metodologia valida per tutti non c'è un'unica visione valida per tutti ci mancherebbe insomma quindi credo che il tecnicismo sia insito un po' in una professione in qualsiasi professione no avvocato iper cavillare no che sappia la sua professione cerca dei cavigli li maneggia bene eccetera però non credo che questo sia tanto cambiato insomma marco tu che ne pensi c'è sempre rischio su questo di confondere poi il in realtà l'espressione con lo strumento no cioè mi ricordo che quando dolcini venne a lisidia a farci un raccontare come lui lavorava noi rimaniamo tutti abbastanza impressionati da questa tecnica di sfocatura che lui usava per inspessire i segni no quindi ci raccontava che lui partiva da un disegno fatto a mano spesso da una fotografia ritracciando nei contorni che faceva lui con un pennarello poi metteva quel disegno sotto la reprocamera sfocandolo siccome la reprocamera che di fatto era una macchina fotografica invertita che proiettava un'immagine su un piano focale orizzontale su quel piano focale si metteva o una pellicola o una carta fotomeccanica che erano tutti e due supporti che non avevano grigi quindi se tu proiettava un'immagine sfocata su uno di quei supporti quello che ottenevi era un segno o più nero o meno nero in base al grado di sfocatura che applicavi e in base al tempo di esposizione e noi rimanemmo tutti mi ricordo che eravamo stupefatti da questa cosa qua no perché dicevi una cazzarola il segno che che vedevi nei suoi manifesti a quel punto capivi come nasceva e poi a distanza di 5 6 anni quindi siamo nella seconda metà degli anni 80 esce fuori un grafico inglese che si chiama neville brody che progetta una fonte il blur che non è altro che un elvetica sfoccato ma sfoccato con photoshop e a quel punto ne abbiamo detto che cazzone cioè fa la stessa cosa dei dolcini ma con photoshop e poi vettorializza questa sfocatura no e non è cambiato niente cioè alla fine cambia lo strumento che utilizzi ma lo scopo per i due era la stessa cosa no cioè voglio dire se pensi ai fotogrammi di di man ray fatti direttamente sotto l'ingranditore cioè la potenzialità di un uso estremo della tecnologia non è cambiata cioè semmai da chiedersi in che modo questa sapienza di uso della tecnologia che di volta in volta hai a disposizione sia portata all'estremo non si ha una forma di confermazione di quello che la tecnologia ti offre cioè se se guardiamo gli impaginati che sono usciti nei primi anni del macintosh quando insomma c'era primo plus 2 no insomma io mi ricordo di aver impaginato una prima rivista con il plus 2 con lo schermo nove pollici in bianco e nero con page maker no allora lì c'era una 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 grande influenza perché c'è una sorta di venerazione del mezzo c'era ancora questo effetto un po dell'indigeno di fronte agli specchietti alle perline quindi il computer era un po da celebrare allora alcune scelte che ti imponeva quasi no come alcune font un kerning non non proprio giusto insomma diventavano uno stile però quegli impaginati di quell'epoca le riconosci subito poi c'è stata immediatamente una presa di un'assunzione di responsabilità nel dire no si deve tornare ad essere perfettamente padroni della tecnologia quindi c'è semmai una 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 questione di opportunità e di velocità che ti permette di gestire più comple in modo con più complessità i progetti e quindi rispetto a prima quello che noi dobbiamo allenare perché la tecnologia ce lo rende più facile è un po la coscienza del progettista no cioè sapere che ritorno di nuovo sul tema della medialità tu stai giocando con quel media lì voglio dire steiner che fa all'umanitario e corsi serali per gli operai gli insegna impaginare cioè insegna agli operai a fare un quaderno di fabbrica per far valere le proprie ragioni impaginato perfettamente e quindi gli insegna la grafica lo fa con i quaderni messicani voglio dire non rinuncia all'idea che la grafica sia un fatto complesso se sei un operaio devi saper fare un giornale impaginato bene perché quello è la tua dignità e sta tutto lì il gioco non è perché questo non è autoreferenzialità questo è essere immersi nel saper tenere la motocicletta perfettamente in funzione e capire che la motocicletta diventa lo strumento per parlare della tua idea di mondo allora passiamo alla seconda domanda potranno sembrare non connesse da un filologico in realtà fino a ieri sera ce l'avevano nella mia testa oggi l'hanno perso allora molte volte i progetti universitari vengono discussi vis a vis tra studente e docente o al massimo in una serie di commissione di tesi o di dottorato tra studente e un gruppo di docenti ma pur sempre tra persone che hanno obiettivi finalità simili o più semplicemente condividono un linguaggio comune in questo senso il rapporto con il committente rappresenta il tassello mancante nel passaggio tra università e professione e ancora per voi il percorso universitario e quello professionale devono percorrere binari oppure possiamo parlare di possibili intrecci tra i due mondi nei vostri corsi come affrontate o introducete la tematica della committenza e il rapporto con essa sì il rapporto con la committenza è fondamentale cioè nei miei corsi lo lo introduco da subito insomma buon progetto non è fatto solo da un buon progettista è fatto da una buona committenza da un budget congru e da un'infinità di altre cose insomma quale rapporto virtuoso puoi avere con la committenza sicuramente un rapporto dialogico cioè un rapporto in cui tu ti metti in discussione ma allo stesso tempo pretendi che la committenza si mette in discussione è un'assunzione di responsabilità da parte del progettista che comunque ce l'ha perché viene pagato per questo ma è una questione anche qui di educazione anche nei confronti della committenza e spesso è molto è la parte del lavoro più difficile e frustrante Marco no il rapporto con la committenza perché spesso ti trovi veramente con a parlare con gente che si fa altro nella vita non ha consapevolezza di questo non ha tempo per avere consapevolezza di questo pensa che pagando una persona arrivi il mago che tira fuori il coniglio dal cilindro quindi c'è anche un po' ancora a tutt'oggi eh io parlo di realtà anche medio grandi o grandi qui in Umbria anche a livello nazionale c'è un po' che questo aspetto di io ti pago e tu mi fai un po' da penna tra virgolette oppure mi risolvi un problema senza che io ti do ti dia tutti i riferimenti per risolvere questo problema come affrontiamo l'insegnamento di questa parte del lavoro nella tua domanda tu dicevi che spesso il rapporto vis-à-vis è molto accademico io quello che volevo dire era e provo a spiegare meglio che in ogni caso tra uno specifico allora tra uno studente e un docente di di una qualsiasi materia di progetto vi è un linguaggio comune una finalità comune e quindi si è in una qualche zona di comfort possiamo dire quando invece il dialogo è tra un progettista e una persona esterna al mondo della progettazione bisogna mettere in campo risorse diverse risorse comunicative e molte volte queste cose qua questo insegnamento secondo me è fondamentale da trasferire allo studente voi come cercate di affrontare questo tema sì sì no perfettamente c'è per quanto riguarda la mia esperienza appunto c'è cercare di essere sempre di trasferire di trasmettere agli studenti la volontà del dello scrupolo in questo passaggio che è un passaggio estremamente dedicato cioè quando si parla di educare un cliente non significa prendere un bastone menari perché sarebbe facile no in quel caso e qualche volta sarebbe anche giusto no però in realtà lì si tratta veramente di perdere tanto tempo a fare quello che faceva il bestliner con gli operai fatto con la parte padronale cioè nel senso fargli capire come il nostro lavoro possa migliorare possa migliorare la sua esperienza professionale e imprenditoriale come noi potremmo essere davvero utili a lui e come lui potrebbe essere utili anche la nostra crescita personale cioè io non ho mai lavorato a un progetto che non mi abbia fatto in qualche modo crescere non mi abbia non mi abbia dato un'esperienza che può essere anche molto negativa però in questo senso è un rapporto molto dialogico quindi ai miei studenti l'obiezione io mi metto sempre la parte dell'avvocato del diavolo cerco di fare una cosa un po' attoriale cioè mi metto nei panni di quello che potrebbe essere un committente che ha poca dimestichezza con quelle cose quindi prendiamo il progetto immaginiamocelo come un cubo e lo vediamo da tutte le parti cioè cerchiamo di attaccarlo più che altro da tutte le parti in questo senso è un passaggio che faccio dopodiché ecco insomma io lo dico sempre cioè lo ripeto a sfinimento noi lavoriamo per committenza il che non significa essere serpi ma significa servire quindi come possiamo servire noi ma questa è una domanda che io mi pongo dal 1993 quando sono entrato in Isia e me la continuo a porre anche oggi cioè come posso essere utile non soltanto la committenza che mi paga ma anche mettiamo una comunicazione una campagna per qualsiasi cosa alla gente a cui quella campagna è rivolta insomma come posso qual è il mio punto di utilità in tutto il processo? questa è una domanda a cui cerco di rispondere giorno per giorno progetto per progetto allora tu Gianluca sei stato anche mio studente sì un po' tutti siamo stati i tuoi studenti e tu sai che nel mio corso di fatto Alisia ci si confronta con temi reali cioè io vi smollo un po' nei casini di fatto dove un po' bisogna organizzarsi anche i rapporti con le istituzioni con cui sia a che fare perché noi facciamo progetti sull'identità dei luoghi non intesi come un esercizio di classe no? ma intesi come anche la preparazione di quel contesto che mi consente di dialogare con un'istituzione che plausibilmente può diventare mio committente o con cui anche semplicemente devo avere a che fare per chiedere l'uso di spazio pubblico cittadino perché anche fare una lettera da mandare a un ufficio comunale per chiedere l'uso di spazio cittadino richiede che io sappia spiegare il progetto che voglio mettere in scena lì quello che voglio fare che è parte del progetto quindi intanto per rispondere a questa domanda bisogna dire quanto all'interno delle scuole in cui si insegna il progetto si sa definire il progetto cioè di quante componenti è fatto il progetto? è solo il disegno? cioè se ci illudiamo che il progetto è fatto solo nel momento in cui io mi metto o con la carta o con il computer disegnando qualcosa faccio un errore clamoroso ci illudiamo c'è Andrew Blaufeld che è disegnatore di caratteri, è stato direttore di Walker Art Center, adesso lavora alla Cranbrook Academy che in un articolo diceva una cosa che ho sempre trovato illuminante noi dobbiamo intendere il progetto come un apparato dove per apparato lui dice del fatto che un progetto coinvolge più piani semantici quindi c'è un apparato semantico che è di contesto, di preparazione del contesto significa predisporre un terreno su cui committente, progettista, stakeholder, comunità, possibili utenti sanno di parlare la stessa lingua e si capiranno in che modo lo preparo? cioè in che modo io preparo uno studente a sapere che esistono un numero di variabili tali da dover gestire che facciano sì che il loro lavoro domani sia compreso? significa prima di tutto preparare uno studente ad essere un cittadino a sapere come organizzare la ricerca sul proprio lavoro tale da avere anche una visione di contesto e di scenario e sapere che il proprio lavoro va a finire lì poi a quel punto quello che tu progetti nel momento in cui sia concepisci una ricerca come design research e la design research è già progetto perché tu istruisci attraverso la ricerca dei filoni narrativi o di racconto che diventano la prima forma di dialogo committente il committente a quel punto fa un viaggio con te cioè fa un'opera di trasformazione che lo rende più vicino alla tua sensibilità perché tu stai condividendo con lui informazioni e un'angolazione sulle informazioni che non è oggettiva progettista non è mai oggettivo è parziale, è partitico, ha un'idea politica del progetto e del fine che vuole ottenere lo condivide e fa questo viaggio che è una sorta di sceneggiatura di teatro dove si dialoga secondo un copione che si scrive di giorno in giorno e si compie questo viaggio quando arrivi a disegnare il disegno voglio dire come in un rapporto amoroso essere passato attraverso i preliminari poi a quel punto è l'unica cosa possibile che può accadere noi non facciamo mai due ipotesi di progetto non facciamo mai l'alternativa A, l'alternativa B, l'alternativa C noi quando arriviamo a disegnare qualcosa e con gli studenti anche tu Gianluca lo sai benissimo quando arriviamo a progettare qualcosa abbiamo fatto una rivista per la sapienza di Roma noi abbiamo fatto scegliere tra il bozzetto A, il bozzetto B, il bozzetto C che è quello che ti insegnano allo IED per esempio essere dei professionisti della comunicazione come dei sarti che ti fanno scegliere una stoffa quello che noi facciamo è invece un cammino in cui si cresce insieme già a scuola lavorando sul contesto e quando si arriva a disegnare qualcosa quello che si disegna è l'unica logica possibile conseguenza è quello che ci si aspetta è un atto che si spera anche che avvenga avviene sempre? no, avviene sempre avviene sempre anche quando va male perché si sa che quando va male qualcosa non ha funzionato non si è riusciti a crescere insieme ma quello che non è successo è quello che sarebbe dovuto allora se diciamo così non tutti i corsi universitari sono belli come quelli di Marco e Daniele in alcuni casi il problema di una mancata committenza vi è nelle università italiane soprattutto in quelle che insegnano comunicazione visiva se poi ci addentriamo in materie più settoriali della comunicazione qual è la progettazione editoriale che è un po' il tema di quest'oggi questo problema a mio avviso negli ultimi anni si è ancora enfatizzato su scala esponenziale tanto è vero che vi è tutta una nascita di rassegne incentrate sul tema dell'editoria indipendente un'editoria quindi che viene prodotta in molti casi da ex studenti o da affissionados tutto un corollario di pubblicazioni autoprodotte o prodotte su minima scala che non trovano un pubblico di acquirenti di interessati se non negli stessi ex studenti voi come interpretate questo fenomeno per molti versi a mio avviso autoreferenziale cioè qual è il vostro parere sull'editoria indipendente credete sia una sorta di risposta a un problema della società da parte di chi frequenta le facoltà di progetto oppure la vedete diversamente allora io Gianluca per rispondere torno anche un po' alla prima domanda alla famosa motocicletta perché quando parliamo di editoria indipendente ci abbiamo in mente alcuni festival fare nel 39 insomma Fruita, Bologna la microeditoria cioè il festival della microeditoria di Roma insomma e quindi abbiamo in mente quali sono quegli ambienti ambienti in cui arrivano per lo più grafici che vanno a vedere lavori di grafici quindi sì voglio dire dove conta molto anche la confezione la tipografia l'impaginazione cioè l'oggetto l'architettura dell'oggetto libro no? un po' come autocelebrazione però basterebbe andarsi a vedere invece dei festival europei e ti accorgi che l'autoproduzione non è altro che una delle risposte possibili a quelle emergenze a quell'urgenza del diciamo del tecnico che tiene la motocicletta in ordine e che non trova magari gli scenari per poterla esibire no? che non trova i contesti offerti dal mercato tradizionalmente perché il suo lavoro possa essere messo a disposizione degli altri e allora l'autoproduzione colma questo vuoto ma è un'autoproduzione che appunto per lo più in Europa invece lavora su contenuti quindi c'è una sono studi che affrontano il tema del design critico che lavorano su contenuti specifici e ci sono rassegne come quella di Londra che si chiama Pick Me Up che è una rassegna di piccole case editrici che vendono e lì si realizza un'economia cioè c'è un'idea molto precisa del fatto che l'autoproduzione ha una dimensione economica sostenibile e quindi è autoproduzione perché non mi riconosco nel sistema blockbuster dell'economia editoriale voglio trovare una forma propria ma la concepisco come forma che economicamente si sostiene e quindi semmai c'è da dire che questa urgenza che in molti studenti esiste voglio dire le tesi che escono spesso dall'Isia di Urbino sono dei libri perfettamente pubblicabili sono perfettamente scritti sono impaginati pensando al contenuto cioè non ci sono più tesi che sono esercizi di impaginazione da mettere in mostra no? mi ricordo che in una commissione di tesi con Alberto Bernini per esempio no? che tu hai avuto feci una litigata clamorosa con lui perché in fase di discussione di tesi lui aveva questo studente che aveva fatto un libro rilegato come faceva a fare lui perfetto con carte pesantissime pesava 18 chili non lo so sì su Ferré sul lavoro di Ferré no? dove c'erano fotografie testi eccetera gli ho detto ma ma sto studente questa roba che ha impaginato dove l'ha presa? cioè è andato nell'atelier ha lavorato con lui ha fatto lì le foto ma no ma no ma questo che significa noi noi facciamo libri cioè cosa significa fare libri no? e quindi allora l'autoproduzione quando nasce invece dall'urgenza di raccontare qualcosa c'è la rivista Pelo che voi fate insomma questo gruppo di illustratori che è uscito dall'Isia che fa questa rivista autoprodotto che si sceglie dei temi quindi per ogni numero si sceglie dei temi e si autofinanzia no? quindi va su Kickstarter fa una in sostanza presenta quello che sta facendo richiede che la gente finanzi la rivista perché condivide il tema e il modo in cui viene trattato allora quella cosa lì secondo me è interessante perché di fatto apre degli scenari che l'editoria di tipo tradizionale quella ufficiale chiamiamola così non pensa di aprire è forse anche quello che dovrebbe essere più presente in questo festival cioè questo qua Umbri e Libri c'è di fatto la cosa paradossale che tenta di assomigliare al salone del libro di Torino tenta di assomigliare a qualche grande salone di editoria gli editori Umbri tentano di assomigliare a qualcuno e non capiscono che potrebbero avere invece una propria specificità cioè l'essere piccoli non è una condizione di inferiorità ma potrebbe essere invece proprio frutto una presa di coscienza di una scelta che è in grado di portare delle proposte con una personalità assolutamente individuabile in cui anche il rapporto tra progettista e casa editrice e lettore deve essere ridisegnato e su questo servono competenze che la scuola può dare quindi capacità di gestire contenuti complessi per esempio cioè in che modo il lavoro del grafico editoriale è solo prendere un testo che qualcuno scrive prendere una fotografia che un fotografo gli dà e le mette insieme cioè questo qua è il lavoro di nuovo Steiner diceva il grafico redattore grafico redattore significa capire cosa sta impaginando quando lui progetta il Politecnico come insieme a Vittorini fa un'operazione di misura dell'informazione molto precisa c'è una gerarchia delle informazioni c'è una uguale dignità di informazioni diverse il grafico diventa interprete di questa missione e questo è un livello di coscienza che deve esistere che deve essere formata quindi certo non bisogna indulgere l'autoreferenzialità non è che la copertina fighetta cucita giapponese è sufficiente cioè dobbiamo uscire da quella dimensione lì e arrivare su un piano diverso però dipende da come formiamo gli studenti su questo assolutamente secondo me sì ha detto molto Marco quindi non è che mi dilungherò tantissimo ci sono delle specificità che secondo me vanno è giusto tutelare qui il problema è anche sistemico insomma tu parlavi qui nella domanda di festival di editoria eccetera in Italia il problema editoriale è un problema mass mediatico in generale è un problema grosso insomma ci sono tantissimi ci sono tanti monopoli fondamentalmente e poi c'è tutta una miriade di gente che vorrebbe essere indipendenti ma che sono indipendenti un po' per forza di cose e non per progetto per contenuto come diceva Marco insomma per scelta poi ce ne sono anche tante esperienze invece fighissime anche tra editoria indipendente quindi editoria che è editoria per scelta e poi c'è un'esperienza dell'autoproduzione anche qui torniamo al discorso mediale sicuramente le piattaforme di crowdfunding sono un'innovazione su cui ancora bisognerebbe capire bene le potenzialità perché alcune sono molto interessanti anche alcuni modi di fare crowdfunding sono molto interessanti nel campo dell'editoria specifico per esempio non c'è soltanto la possibilità di finanziarsi dei libri e quindi fare una tiratura ma appunto parlando di tirature quindi quanti ne stampiamo ci sono anche dei soggetti che hanno tirato fuori quest'idea di stampare e tirare soltanto i libri che vengono ordinati dal crowdfunding quindi è o ce lo hai qui o non ce lo hai mai quindi sono cose diverse ci sono molte cose interessanti la cosa più interessante ecco è che comunque io spero che i nostri studenti quando escono sentano l'urgenza di fare qualcosa qualsiasi anche qualsiasi cosa forse sarò un po' anche romantico da questo punto di vista però secondo me è sempre positivo anche se all'inizio normalmente è autoreferenziale o sballato come ego riferito a tutto quello che vuoi però secondo me se tu hai fatto un buon lavoro in tutto quello che è il percorso didattico che abbraccia un pochino anche quello che diceva Marco come tipo di approccio alla professione approccio alla non soltanto alla professione secondo me è un approccio generale alle cose al progetto dovresti cioè secondo me io sono contento se c'è questa cosa qui che se non si chiudono in uno studio in una roba a fare progetti per committenza ma sentono l'esigenza invece l'urgenza di fare delle robe loro comunicare le robe loro significa che comunque il loro mondo interno è stato nutrito dalla tecnica e dalla consapevolezza delle materie che hanno appreso questo Daniele come attività laterale a quello della professione o come focus primario su cui incentrare la professione perché poi è un po' questo il tema cioè quello che volevo mettere io in evidenza è anche forse un cambiamento però i percorsi sono tutti diversi cioè tu giustamente potresti fare il percorso di un anno dietro a delle robe che sono per per quello che ti possono ridare a livello di di soldi insomma di mantenimento pochissimo niente potresti passarci tutta la vita potresti trovare una tua strada oppure lo potresti portare avanti parallelamente insieme a un lavoro che ti permette di mettere insieme pranzo con la cena ogni percorso veramente è molto diverso dei ragazzi ma anche delle persone che lavorano in questa professione quindi la cosa che secondo me servirebbe e che molto spesso manca è un dialogo come quello che un po' stiamo facendo oggi insomma che è un dialogo che potrebbe cioè noi qui a Perugia è una città piccola abbiamo delle eccellenze enormi e altre se ne stanno aggiungendo perché io vedo che la consapevolezza sul sulla grafica la consapevolezza sul progetto soprattutto secondo me va aumentando non è che va diminuendo quindi è più difficile anche per chi lavora perché comunque si deve confrontare riaggiornare eccetera tenere insieme queste persone questi professionisti queste quelle che adesso sono un po' monadi attraverso un discorso di dialogo generale questo sarebbe una bella sfida che porterebbe via molto tempo però insomma creare un percorso di dialogo continuo di sì di pubblico insomma sull'argomento va bene allora andiamo avanti in qualche modo ci siamo resi conto che la mancanza di una committenza e la deriva autoreferenziale siano un po' il passaggio che caratterizza l'accademia della professione in un'accezione che a volte può essere negativa in molti casi può essere positiva di sicuro accademia e professione questi due ambiti condividono uno step metodologico ovvero di come si affronta il progetto essenzialmente comune il primo step della metodologia del progetto è la ricerca e la produzione di contenuti in questo senso possiamo comprendere come le esigenze formative delle scuole che cercano di fornire alle studenti strumenti esponenzialmente universali per affrontare la professione in modo autoriale e non con un atteggiamento da problem solver in quest'ottica la ricerca svolge un ruolo essenziale nella professione obbligando ciascun progettista ad un costante aggiornamento e ad un continuo processo di apprenditamento che sembra non terminare mai una cosa che aveva già detto Marco in effetti quali sono secondo voi gli strumenti fondamentali per affrontare una ricerca per un nuovo progetto e ancora questi strumenti li possiamo considerare trasversali a entrambi gli ambiti allora su questo penso che la questione sia di nuovo considerare il tema del progetto in tutte le sue possibili articolazioni noi l'anno scorso all'interno del corso abbiamo preso in considerazione una figura un artista olandese che si chiamava Constant e che ha lavorato per vent'anni su un progetto su un unico progetto diciamo che è come se se non lo so Picasso per vent'anni avesse lavorato su Guernica quindi lui ha lavorato su un'unica idea che ha chiamato New Babylon e New Babylon era una forma di raffinazione di un'idea utopica di città quindi Constant per vent'anni insegue quest'idea che nasce tra l'altro in uno dei primi consessi che in Italia ad Alba in Piemonte tutti gli artisti del movimento situazionista all'inizio degli anni cinquante quindi nell'immediato dopo guerra fanno nascere osservando che cosa i campi nomadi e quindi quelle forme di organizzazione dell'esistenza che nascono su un'istanza che è di mobilità spostamento provvisorietà facendo diventare questi valori che per noi sono valori quasi deteriori secondo l'idea di una società invece come dire istituzionalizzata che basa sulla immobilità il nostro è un mercato immobiliare perché non si muove invece quest'idea è di una società mobile e di una società che fa della provvisorietà una cifra ripetibile sostenibile allora lui parte da lì smette di dipingere fino a quel momento faceva parte di un gruppo cobra olandese che faceva quadri ispirati all'arte primitiva africana smette di dipingere e comincia a ridisegnare mappe di città a disegnare mappe di città dove si intuisce che la sua idea utopica di città è fatta da un'umanità che vive sospesa dal suolo su una sorta di grande reticolo mondiale è un'idea che lo porterà in contatto per esempio con il superstudio che lo porterà in contatto con l'architettura radicale senza che lui ne fosse cosciente perché non era un architetto anzi gli stava anche un po' sulle palle l'idea che lo considerassero un mezzo architetto perché per lui era arte cioè questa idea utopica di società sospesa dove l'uomo era affrancato dall'idea del lavoro che gli dovesse servire per vivere ma che in realtà proprio perché in una società utopica completamente automatizzata sapete che oggi parliamo di quanto i robot ci ruberanno il lavoro nella sua idea di società affrancata dal lavoro l'uomo si può dedicare a crescere come uomo ludens quindi come uomo come umanità che attraverso pratiche legate al piacere al divertimento riesce a stabilire delle dimensioni relazionali totalmente ideali e quindi dedicati alla crescita dell'intelletto allora non è un contenuto reale quindi voglio dire Constant per vent'anni lavora su quest'idea utopica del progetto attraverso una chiave che è quella artistica lui non si pone come un sociologo non si candida sindaco di nessuna città non diventa professore universitario come Iona Friedman che insegue come architetto franco israeliano la stessa idea ma che la fa diventare una forma di educazione pedagogia eccetera lui invece la confina quasi per scelta in una dimensione totalmente artistica allora questa la risposta a questa domanda sta qui sta qui quanto la nostra necessità progettuale è cosciente della propria dimensione artistica e di trasformazione non dei sogni sociali che legittimamente le persone hanno rispetto a come faccio a crescere i figli dove lavoro come guadagno lo stipendio ma come io posso diventare grazie a una crescita invece su un piano diverso interpreta e membro di una società totalmente utopica capace di immaginare mondi diversi c'è un artista a cui ci siamo ispirati per il progetto di identità di Universo Assisi che è Thomas Saraseno che oggi riprende quell'idea lì di Constant e immagina che l'uomo possa vivere su città sospese totalmente sospese dalla terra vincendo la gravità allora secondo me noi gli strumenti fondamentali che dobbiamo dare a uno studente e sapendo che poi lui sarà schiacciato dalla gravità del lavoro nel momento in cui esce non si potrà sottrarre a quest'idea dagli strumenti che lo rendono capace di far convivere la sua dimensione utopica la sua visione utopica del progetto del lavoro assieme alla necessità di essere un tecnico di motociclette sì sostanzialmente anche questo qui cioè gli strumenti per affrontare la professione come comunque cioè per te sono i medesimi quelli che trasferisci ai tuoi studenti e quelli che usi nella tua professione e li reputi in qualche modo vicini oppure sono interpretati diversamente sono interpretati sono declinati diversamente forse però non è che nel mio corso penso anche Marco cioè gli diciamo ecco così si fa un impaginato ecco questo è un carattere ecco magari ci saranno anche piccole parti così si cerca di dare un approccio appunto più generale al progetto Marco ha detto una cosa molto giusta prima che chi ha studiato con me questi quattro anni ho sentito diverse volte cioè dovete diventare cittadini fondamentalmente è questa la dimensione che noi creiamo è pedagogica non soltanto nel senso di passare gli strumenti per fare una professione perché se no cioè voglio dire torniamo al paradigma Bernini no? insomma in realtà non è questo cioè almeno l'ambizione nostra non è questa che abbiamo fatto un tipo che ci abbiamo avuto un tipo di estrazione anche di di letture diverse insomma il progetto è un progetto che tiene conto veramente della dimensione umana totale dello studente quindi i miei studenti questo lo hanno sentito la mia diverse volte insomma e gli strumenti che gli passo io certo sono quelli che uso anche nella mia professione cioè con i limiti che ho io come persona e come progettista quindi no no hai detto delle cose che in qualche modo ci collegano anche l'ultima domanda che volevo porvi nel senso che voi entrambi avete parlato di formare dei cittadini forse prima è che è formare dei grafici e quindi questa ultima mia riflessione ragiona proprio su questo tema ovvero quali sono le finalità dell'insegnamento della comunicazione visiva se ci caliamo nella realtà odierna in modo presente senza divagazioni siamo consapevoli e facciamo conto con il fatto che vi è un aumento statistico del tasso di disoccupazione tra i giovani e quindi vi è anche un aumento di disoccupazione tra gli studenti delle facoltà di progetto in questo senso è giusto continuare a formare studenti riconducendoli a un unico settore professionale oppure è giusto fornire loro competenze e abilità sul piano strategico obbligandoli a una presa di coscienza maggiore ed anticipata già in sede accademica penso che puoi rispondere tu rispondo io dopo la parola Marco assolutamente sì conviene formare studenti iper professionalizzati o professionalizzati quindi molto settorializzati se questo è l'intento del tuo corso non lo so non è una domanda che nemmeno ti poni la domanda che mi pongo io all'inizio e che pongo ai miei studenti all'inizio dei corsi invece è diversa insomma è iniziare a capire la realtà cioè chiaramente trasferisce anche degli strumenti tecnici cerchi di insegnarli però per dire e Anna che è direttrice dell'istituto lo sa benissimo quanto io odio il fatto che ma tu vieni a insegnare in design illustrator cazzo me ne frega io li faccio disegnare con le matite perché il progetto lo puoi fare con le matite in un determinato punto perché si occupa più di contenuto no? è questo qui il discorso quindi c'è un tipo di educazione che secondo me a prescindere valida indipendentemente dal tipo di professione o di disoccupazione se c'è successiva è chiaro che la mia felicità sarebbe che gli studenti riescano a lavorare e a lavorare bene significa che ho fatto un buon lavoro però per me sì è giusto perché la nostra professione i nostri studi non riguardano sul trasferire eminentemente capacità tecniche ma è un approccio veramente molto più ampio parlavamo di Albe Steiner ha scritto dei libri meravigliosi da questo punto di vista cioè quando parla di grafico redattore con due parole è molto riferita a un progetto appunto editoriale quindi redattore lì però si introduce un mondo cioè ti fa capire come il grafico non è un artigiano punto e basta non è banista per dire fa capire altre cose io penso di averci la pretesa di di seguire questa cosa di dare seguito questa cosa durante i miei corsi insomma e chiaramente cercando di introdurre anche tutte quelle che sono le cose che dicevamo prima cioè i progetti che loro si danno non se li danno cioè troviamo dei committenti già reali già dal primo anno con questi non andiamo a fare una cosa per cui dice ah ci ho parlato sai vorrebbe che io facessi una cosa così si cerca sempre di evitare questo discorso non perché non devono fare le cose come i propri committenti ma perché il progetto non è questo cioè è altra cosa quindi cercando di mantenere anche un certo equilibrio con quello che poi è una visione utopica del progetto stesso delle proprie capacità insomma delle proprie ambizioni più che altro Marco tu metti in conto che molti dei tuoi studenti possano diventare qualcosa d'altro partendo dal progetto cioè non per forza chi studia in sede universitaria o meno la progettazione possa applicare quello che ha imparato e applicare il concetto di progetto alla vita in sé oppure l'obiettivo delle scuole è quello di formare persone da inserire all'interno dello stesso settore guarda due delle mie più grosse soddisfazioni sono due studentesse che hanno fatto con me la tesi una si chiama Chiara Stolfi e che dopo aver fatto la tesi con me è diventata una cuoca di sushi l'altra si chiama Alice Poma che ha fatto una tesi sul critical design un lavoro che ha fatto straordinario e che oggi è editor di Lars Müller allora secondo me quando lavori sulla coscienza delle persone sulla presa di consapevolezza che il loro ruolo e la capacità che hanno di intendere il progetto come processo di trasformazione la mia materia è metodologia del progetto quindi inevitabilmente lavoriamo sui processi e lavoriamo sul processo come oggetto del progetto quindi non lavoriamo sull'oggetto finale allora questo significa che se le persone sono formate per concepire il proprio ruolo come a servizio di una trasformazione qualsiasi stessa sia puoi cucinare un piatto puoi scrivere un libro puoi costruire una casa puoi pulire una strada puoi fare l'editor di una casa editrice che pubblica titoli sul progetto allora lì secondo me capisci che puoi fare un buon lavoro come docente come designer come ma questo succede anche con all'interno dello studio insomma cioè io sono molto contento quando le persone tu adesso comincerai a insegnare quando le persone oltre al lavoro che fanno progettano sono in grado di progettare anche altro nella loro vita quando riescono a interpretare il proprio essere progettisti come diciamo attività abilitante su sfere del proprio stare al mondo che non riguardano esclusivamente il disegno della pagina o il disegno il carattere o il saper fare un esecutivo cioè secondo me questa responsabilità sta proprio nel capire che fine pedagogico ti dai no? perché è ovvio che se noi pensiamo a scuole come la Naba di Milano è ovvio che lì escono degli automi della professione però sono persone che se non trovano lavoro esattamente per le mansioni su cui si sono formati non potranno fare altro nella vita la mia ambizione utopia poi io su questo con alcuni colleghi ho degli scontri continui la mia ambizione utopia che invece il progetto sia un'attività della società e del mondo proviamo a ricordarci come nascono le rivoluzioni e da dove sono nate le rivoluzioni che hanno cambiato la politica e il pianeta quasi sempre i movimenti operai i movimenti delle masse che si sollevano hanno a fianco artisti letterati scrittori che creano l'immaginario che sostiene quei grandi rivolgimenti allora io penso che ci vorrebbero più progettisti al mondo e meno avvocati e allora concludiamo su questo pensiero di Marco e vi ringrazio e vi lascio al prossimo dibattito grazie a tutti 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 grazie a tutti